106esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'Ariete. La chiesa ricorda Sant'Annibale. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Annibale. Il nome ha origini fenice e significa benefico signore. Il numero portafortuna è il 3 e il colore è il rosso. Accadde oggi. Il 15 aprile del 1959 viene inaugurato a Ispra in provincia di Varese il primo reattore nucleare italiano. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 15 aprile ricordiamo l'attrice Claudia Cardinale e l'attrice inglese Emma Thompson. La citazione del giorno. Se vuoi sbagliare va dove ti porta il cuore. Dino Risi. Dice il saggio. Ospite raro, ospite caro. Il bel paese. Nel 1989, durante alcuni lavori stradali a Rimini, una scavatrice andò per sbaglio troppo a fondo, facendo riemergere con lo stupore di tutti prima le mura di un edificio romano, poi dei mosaici, poi monete e strumenti medici. Fu così scoperta la Domus del Chirurgo, una villa abitata fino al secondo secolo dopo Cristo da Eutiche, medico militare di origine greca. La sua collezione di 150 strumenti chirurgici costituisce un unicum in tutto il mondo. Nella villa sono ancora perfettamente visibili i bellissimi mosaici, tra cui quello di Orfeo nello studio medico. Per completare la visita è fondamentale visitare il museo della città di Rimini, dove sono custoditi gli strumenti chirurgici e altri reperti e dove è possibile ammirare la ricostruzione in scala originale degli ambienti della Domus. Grazie a tutti.